Ben trovati in questo nuovo video, oggi vi voglio far vedere come trado l'oro in alcune situazioni Io utilizzo solitamente una metodologia di trend following Però delle volte per scalare dei trade nel mio piccolo con i miei 4 spicci Provo a cavalcare i vari ritracciamenti del trade E come faccio? Grazie all'RSI Un semplicissimo strumento, molto banale Quindi questa è una strategia di scaling ma può essere usata anche da chi non lavora di trend following ma lavora di contro trend Cos'è l'RSI? L'RSI è un indicatore che si trova in questa sezione qui Quindi andiamo su indicatori, cerchiamo proprio RSI o Relative Strength Index Ed è questo strumento qui Premessa che questi qui non sono dei consigli, è semplicemente Consigli finanziari è semplicemente un video dove faccio vedere quello che faccio io Quindi è una sorta di mio videodiario Ulteriore premessa Come lo trado in questa situazione specifica? Lo vado a trattare a un minuto Un minuto è uno dei time frame con cui ci si fa più male Quindi ovviamente massima attenzione Il segreto qual è? Giocare sulla statistica e sul rischio di rendimento Minimo minimo di 1 a 2 E se si riesce di 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5 e via dicendo Andiamo a vedere quello che succede Allora in questo momento, vabbè, 17 giugno Discesa, ritracciamento Qui sembra un doppio massimo Vabbè, vedremo quello che succederà Io nel dubbio piazzo la mia operazioncina virtuale Poi andiamo a vedere a fine video quello che succede Ok Ecco, si sta muovendo già Benissimo E come funziona la strategia? La strategia funziona in controtrend Quindi in una situazione come questa qui Noi andiamo a vedere che l'RSI è uscito Come vedete qui è uscito dal quadrante viola Siamo al termine di una discesa Diciamo che sembra abbastanza sana E che a un certo punto si sta scaricando Quindi noi possiamo decidere Nel momento in cui vediamo l'RSI che esce Quindi non immediatamente Magari alla candela subito dopo Di entrare L'ideale qual è? Che se dobbiamo entrare in buy dopo un trend discendente Aspettiamo un'apertura di candela verde perlomeno Nel momento in cui io vado ad aprire la mia operazione Avrò una situazione del genere Dove dovrò decidere lo stop e il take profit E l'ideale ovviamente è quello di cercare di avere un risk reward di 1 a 2 Quindi una situazione da 50 e 100 Chiaro è che io posso tirarla anche più su Però nel momento in cui il grafico non ci arriva Io cosa faccio? Io appena la mia operazione va in profit Mi prendo il mio bel righellino In realtà controllo tutto manualmente Nel momento in cui vado diciamo così in una situazione del genere Quindi con un risk reward di 1 a 1 Porto a break even Cioè semplicemente tiro sullo stop e lo metto leggermente sopra Così anche se torna indietro È come se non avessi preso l'operazione E per quanto può far rosicare Molte volte è meglio prendere un break even di una perdita Però andiamo nel passato Perché ogni cosa va sempre backtestata Non va presa così Per vera da subito Allora Qui non è propriamente uscito Però vediamo che Ha funzionato ugualmente Quindi cosa può fare? Uno vede Ok dice L'RSI sta a questi livelli Mi fa questo candelone Di solito quando vedo due candele di questo tipo Lo leggo come indecisione sul mercato Posso aspettare un retest Della stessa candela E poi qui Uno si va a prendere un bel sell Andiamo indietro Anche qua Anche qua Ci troviamo una situazione dove L'RSI è uscito fuori E noi ci andiamo a piazzare Quella che è la nostra bella operazioncina Con un risk rendimento di 1 a 3 Quasi 1 a 4 ecco E sono anche rapide Perché a un minuto Se uno entra diciamo così Alle 15 e 36 Alle 15 e 45 La chiusa Quindi sono adrenalini Che Però lo stress diciamo così È rapido Perché finisce subito Poi 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 Torniamo un po' più indietro Nel passato Pa 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 Vediamo un po' Vediamo un po' Allora 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 Cosa andiamo a vedere Qui ci sono due fuori uscite Allora come vedete Vi faccio vedere un'altra cosa Vediamo se zoomo un po' al contrario Scusate che lagga un po' la connessione Come vedete Qui c'era un trend rialzista Allora qual è stato il mio ragionamento Entro sul retest Diciamo così più o meno Del 50% di questa candelona Ed entro in buy Sono entrato in buy E Quando ho visto diciamo così Questa discesa Io ho chiuso l'operazione Non ho aspettato di essere stoppato Ho aspettato un retest Diciamo così A questi livelli E ho deciso poi di entrare in sell Subito dopo Se mi avesse dato questa conferma Perché è stata rotta Questa struttura qui rialzista Poi che ha fatto Ha preso potenza Inizia ad ascendere Però mentre scendeva Noi dobbiamo aspettare Che si scarichi del tutto E Queste cose poi Sono cose che uno Diciamo così Le acquisisce con Con l'esperienza Io qui potrei anche entrare Perché ho il segnale dell'RSI Però È un'operazione che probabilmente Sarebbe andata a break even Io non l'ho presa questa E ho preso solo la discesa Sarebbe andata a break even Perché? Perché appunto è salito Più o meno di Oddio forse l'avrei addirittura Persa Sì perché praticamente La discesa Se noi andiamo a misurare Vediamo Allora lo stop è più o meno di 67 Questa candela È arrivata Sì a 74 Quindi l'avrei messa a break even E poi mi avrebbe stoppato Quindi uno deve aspettare Però nel momento in cui Vado a prendere qua E ho questo ingresso qui Anche qui mi becco questa salitella È chiaro che se riesco Invece a poi a percepire Che in realtà ci possa essere Una mega inversione di trend Qui vedete Se uno ha lo stop troppo stretto Sarebbe stato bloccato qui In questa situazione qua Però poi è volato Quindi ecco E semplicemente Diventa semplicemente Quello che è un gioco statistico Però poi uno deve anche avere Un minimo di Di concetti Di price action Probabilmente anche di Di smart money Ecco E questa è un'altra situazione Dove invece è uscito Se fossimo entrati qua Semplicemente ci avrebbe stoppato Perché Perché non c'era niente E però per poter entrare In contro trend Io devo avere anche dei segnali Da parte delle candele Cioè queste sono candeline Nude e crude Non ci sono delle rejection Verso l'alto Mentre invece vedo già qui Che il trend Si sta scaricando Perché vedete Questa è una candela Che significa che è arrivata Fino qua E poi è scesa Quindi per dire A 40 secondi Scusate A 10 secondi dalla fine Mentre era qua E è scesa E è chiuso qui Questa pure In decisione Era scesa Poi è risalita Questa uguale Era scesa Poi è risalita E Questa proprio È una candela Quasi ribassista Quindi già qui Uno sarebbe potuto entrare E prenderlo in quel posto E rimanere bloccato Allora qua che fai Rientri qui E anche qui Rimani bloccato Insomma ecco Ci sono delle situazioni In cui Le strategie sembrano tutte belle Però poi uno le deve provare Sul mercato reale Con Un capitale in demo Un capitale virtuale E poi trova quella che fa Al caso suo Però ecco Questa è Una strategia Che per lo più Uso Come Per scalare Dei trade O addirittura Per capire Quando è il caso Di uscire Da un trade Perché per esempio Qui sono entrato Ho fatto un Risk reward Di 3.77 Dov'è che sono uscito Quando ho visto L'inversione Dell'RSI Se fossi entrato Subito qua Però ero troppo Teso Dall'altra operazione Se fossi entrato qua Eh cacchio Avrei preso Avrei preso Parecchi pip Però ero stressato Perché Questa è l'operazione Di stamattina 17 giugno Perché c'era stato Questo range Range Che era iniziato Dalle 7 Dalle 7 Fino a Alle 8 O alle 9 Prima che ha rotto Insomma ha rotto A ribasso Già qui avevo fatto Il mio ingressino Che per carità Mi aveva portato Qualcosa Poi qui sono rientrato Però Massima tensione Per cui ecco Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemelo sapere Nei commenti E Ecco Scrivetemi anche Se tratate Come tratate voi loro Se Volete vedere Delle sessioni live Qualcosa di diverso Dal solito Ecco E' importante Anche aiutarsi Nella community Delle trader Perché Perché siamo pochi E Soprattutto Quelli che poi In realtà Ce la fanno Sono pochissimi Per cui E' sempre buono Darsi una mano E cercare Diciamo così Almeno perché All'inizio Di trovare Una strategia Semplice Che possa funzionare Senza troppi Sotterfuggi Ecco Sotterfuggi